Almeno cinque soldati ucraini sono morti assieme a tre civili nelle ultime 24 ore in Ucraina orientale. La linea del fronte sembra essersi spostata verso la località di Debalseve. Si tratta di un importante snodo ferroviario che i lealisti cercano di tenere con grande difficoltà, visto che i separatisti prorussi hanno accerchiato la località. Sembra che i soldati di Kiev siano allo stremo, nessun ricambio di truppe fresche e una situazione pietosa dei mezzi rendono quasi impossibile rispondere al fuoco. La popolazione civile è intrappolata, spiega un ufficiale medico. Ogni giorno arrivano dai 40 ai 50 feriti, due o tre in modo grave. L'ospedale centrale è quello di Artemis, ma zone come Debalseve, a una quarantina di chilometri, sono completamente isolate. Non importa che siano civili della minoranza russofona o ucrainofona, le armi non fanno distinzione e i medici non possono raggiungere queste persone isolate sotto il fuoco dei bombardamenti. Nemmeno gli ospedali vengono risparmiati e da queste parti ha una possibile tregua. Non crede più nessuno. Non credo! Non credo, infine!